E' impossibile che tua figlia avete troppo pochi anni di differenza, ma dice a me, ma è ancora questa storia? E' mia figlia? Questa è il figlio? A me chiese il sangumeo? Ma come ve lo devo dire? Che so, ma vuoi dire qualcosa? Posa sul telefono? Sì, sì. Sì, 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 sì. Mi fa litigare da solo. Non mi danno cavolo di soddisfazione, non mi dà. Facciamo una cosa, papà. Per dimostrare chi è la tua figlia, domani andiamo a fare l'esame del capello. Mamma mia, big shit.